Dylan Dog 421, la variabile... Io ho tante lamentere da fare oggi, è che sembra l'ultimo video delle coliche. Wabalaba dar dabe, bentornati su Namammazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog, serie regolare. Questo numero, il 421, è il primo numero dopo il trittico estivo dedicato a Vasco Rossi, quindi tre numeri per tutta l'estate che citavano. Una canzone diversa di Vasco Rossi, e questo è anche il primo numero con i nuovi copertinisti, nuovi per la testata regolare, le avevamo già visti, sperimentati e approvati sulla collana Old Boy, sono i Cestaro Brothers, che esordiscono come copertinisti regolari dopo l'addio di Gigi Cavenago, che, come scritto nell'editoriale stesso di Recchioni, ha avuto sopraggiunti impegni americani. Quindi, cavoli, tanto in bocca al lupo a Gigi Cavenago per la sua nuova avventura. Questo numero segna anche il 35esimo anniversario di Dylan Dog, che è caduto domenica scorsa, domenica 26 settembre. 35 anni di Dylan Dog, per cui ci hanno omaggiato anche della copia a colori ristampata di Dylan Dog numero 1, l'alba dei morti viventi, con il frontespizio, che non è il primo frontespizio che c'era all'epoca, è stato il secondo frontespizio, sempre disegnato da Stano, di cui abbiamo anche parlato nella live Dylan Dog e l'arte, che si ispira liberamente a un quadro italiano. Mi è piaciuto così tanto questo omaggio a colori, nonostante io abbia già una versione a colori del numero 1, che probabilmente il prossimo Retro Dylan sarà dedicato al numero 1. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi a questo canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che compiono 35 anni e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo fumetto. Seguitemi anche sugli altri miei social, che oltre ad apparire qui davanti, trovate anche qua sotto come link cliccabili. Dylan Dog 421, vorrei cominciare con una nota a livello di editoria sulla copertina, non sul disegno dei Cestaro Bros, che mi piace un sacco, anche se non c'entra molto con il numero, ma probabilmente perché magari non erano molto previsti su questo nuovo incarico, quindi per carità perdonabilissimo, ma proprio il fatto che questo numero ha una sovraccoperta, quindi la copertina è questa, quindi senza il codice a barre davanti, ma c'è una sovraccoperta con il codice a barre, perché uno appunto può, anzi può, deve battere qui davanti per venderlo, perché qua non c'è il codice a barre, ok? Non c'è il codice a barre da nessuna parte, c'era qua dietro, ma era tappato e quindi hanno pensato di fare questa cosa qui. Ora, ovviamente qua sono due fumetti, ci sta, ma perché non l'avete fatto anche con i tre numeri di Vasco Rossi? Perché non avete messo magari una sovracopertina con Vasco e questo coso qui davanti? Quindi dietro magari sempre la copertina di Vasco o la copertina di Cavenago, non lo so, in originale, cioè come prima di copertina e non come quarta, e poi una volta tolto questo per gli edicolanti, la copertina di Vasco Rossi restava in quarta di copertina. Perché non ci siete arrivati per quello e l'avete fatto per questa cosa qui? Questo che mi chiedo, chiedo alla Bonelli. So che ovviamente è un costo che là non era necessario, però cazzo, tanto avete triplicato le vendite, ma che ve frega? Sarebbe stata una cosa carina per chi prende Dylan Dog da sempre, a prescindere dall'evento. Parliamo finalmente della storia. Questo numero sancisce una ritrovata collaborazione tra Paola Barbato, l'autrice, e Fabio Celoni, il disegnatore, che comunque, a prescindere da tutto questo, che da tutto quello che dirò, a me come disegni piace un sacco. Questo numero sancisce una sorta di sequel a quest'altro numero, Il Tocco del Diavolo, numero 221, uscito nel 2005, quindi neanche dieci anni fa, sono sedici anni fa, è uscito nel 2005, un numero che io non conoscevo assolutamente, ma che casualmente qualche anno fa, il mio amico Nicola, che ringrazio, mi ha detto, ma sai che c'è? Leggi questo numero perché è davvero bello tra quelli attorno al 200. L'ho letto e devo dire che mi era piaciuto davvero tanto. Mi era piaciuto al punto che ho scritto alla Barbato, dandogli una mia sorta di sequel. Gli ho detto, cavoli, questo personaggio qui che, vabbè, ve lo dico, se non l'avete letto è spoiler, però, cazzo, è del 2005. Questo personaggio qui fondamentalmente è un angelo caduto che impara a capire il bene e il male, così come Adam una volta che ha morso la mela, fondamentalmente. Io ho pensato che questo angelo caduto, vedete, ha i capelli biondi, con questo look, questo colore, ho detto, chissà che un po' come Barney Stinson, una volta che questo angelo è caduto dal paradiso e ha capito la differenza tra il bene e il male, non si sia dato una bella tagliata ai capelli, non si sia messo un bel completo da uomo d'affari e non si è diventato quello che noi conosciamo come John Ghost. Quindi questa era la mia speranza per questo personaggio. Poi, per carità, c'è stato il soft reboot, quindi sapevo che questa storia sarebbe finita nel, non dico nel dimenticatoio, ma in un'altra realtà e quindi le mie speranze erano cadute. Pensate la mia gioia quando ho visto che questo numero parlava proprio di come sono andate le vicende dopo questo numero. Peccato che nel frattempo qua c'è stata un'apocalisse che ha rigenerato gli eventi. E quindi voi dite, allora come fanno a spiegare che questo è già accaduto se c'è stato di mezzo il reboot? Risposta con il solito modo de merda. Ovvero, ah sì, Dylan Dog, tu hai vissuto non solo questa vita, hai vissuto altre vite e quindi ci sono successe delle cose anche se tu non le ricordi e siccome noi siamo esseri sopranaturali noi lo sappiamo e tu no. Ma basta ragazzi, questa spiegazione di merda, che schifo, che palle. È lo stesso problema del cavolo che c'è stato con la trilogia del buio di Chiaverotti. Quella era fatta pure peggio perché hanno dovuto anche aggiustare le tavole dei disegni. Qua si sono sicuramente occupati soltanto dei balone quindi c'è stato un lavoro molto più preciso, molto più di fino. Aggiungo anche che magari la Barbato l'ha persino scritto con la consapevolezza del reboot. Ma questa spiegazione davvero basta, non sta in piedi. Ti prego, Recchioni, se vedi questo video so che hai già visto altri miei video spero che tu possa ascoltare la mia umile opinione ma non si può semplicemente dire proprio ufficialmente. Ragazzi, la serie 666 è un soft reboot. dal numero 406 in poi immaginatevi che ci siano stati tutti gli altri numeri. Basta. Eh ma c'è stato Lord West. Ma chi se ne frega. Ma scusate, ma non è più semplice spiegarla così. Dire ok, questo è il soft reboot. Vi abbiamo un po' riscritto le cose ma tutte le storie vecchie si collocano esattamente tra il 406 e il 407. Basta. Così deve essere. In modo che questo ha un senso. Eh ma all'inizio non c'erano Rania e Carpenter sono arrivati dopo. Eh ma Rania sembrava la moglie l'ex moglie di Dylan invece qua sembra arrivata dopo in questo modo. Eh ma Block non è mai stato sovrintendente prima è andato in pensione adesso è tornato. Ok ma quelle sono storie passate. Non è più facile retconnare così che non in ogni numero dover spiegare sta cosa. In questo numero imperversano fino a tre quarti della storia con sta roba eh. È una rottura di palle. Quindi se anche mi fosse piaciuto questo numero come sequel tutte queste spiegazioni tutti questi spiegoni di Red Continuity me l'hanno davvero fatto non piacere. Ed è un vero peccato perché ripeto i disegni sono molto molto belli. Dulcis in fondo dato che ormai sto già facendo polemica immaginate la mia sorpresa quando sfoglio le pagine e scopro che fondamentalmente Dylan si trova davanti a un tribunale dove c'è la lotta eh per l'umanità tra degli angeli e dei demoni tra il paradiso e l'inferno. Ma non vi sembra nulla di familiare nulla che in questo periodo sta già accadendo da qualche altra parte. Ora io lo so che le storie sono preparate un anno prima sono scritte un anno prima la gente non può prevedere cosa esce in edicola in contemporanea. Ok lo so lo so ma mi volete anche dire che non ci sono delle storie già pronte che magari potevano uscire dopo ma si fanno uscire prima magari perché ci sono non lo so delle voci di corridoio sul fatto che da tre mesi a questa parte da qualche dalla gentile nuova concorrenza appena nata c'è una battaglia tra angeli e demoni allora mettiamo anche noi la battaglia tra angeli e demoni non lo so so che sono delle sovraletture so che sto facendo il polemico oggi va così però davvero non lo so speravo che questo argomento comunque si non venisse toccato in Dylan Dog per qualche numero perché comunque davvero sembra di leggere le stesse cose e in questo caso sembra essere Dylan che cerca di scignottare la concorrenza c'è il QR code prima c'era di là adesso c'è di qua a parte queste remori iniziali che poi appunto si dipanano durante la lettura del numero il numero non è affatto male anche perché poi come trattano il discorso di angeli di demoni di libero arbitrio a prescindere da quello che succederà più avanti in Samoestern è comunque trattato in modo molto diverso molto dilaniato quindi per carità ha una sua personalità ha una sua forma non posso dire che la storia mi sia piaciuta enormemente ma questo perché perché sono uno tra quelli che ha letto la prima storia che appunto si era fatto un suo film mentale per un sequel ma questo è colpa assolutamente mia come ho sempre detto se uno si fa aspettative su quello che può succedere e ne viene deluso non è colpa di chi scrive ma di chi si fa le aspettative comunque questo è colpa mia quindi io rispetto a questo numero che io ho adorato questo mi è piaciuto un po' meno ma perché appunto avevo in mente una via diversa per i personaggi quindi per carità e quindi non mi è piaciuto tantissimo ma è comunque un numero che va letto che io ho apprezzato e che vi può permettere di rispolverare questo numero finisco praticamente non ho parlato della storia è come se fosse una recensione non spoiler questa finisco la recensione di questo fumetto con le lamentere dicendo che non si può fare un sequel dopo 16 anni ok non siamo Ghostbusters non siamo Guerre Stellari qui non si può se si legge un fumetto del 2005 fare un sequel nel 2021 non ha senso ha senso se ce l'ha in libreria perché te lo vai a risfogliare ma se uno non ce l'ha io voglio sperare che questo non sia sold out sul sito della Bonelli al di là del fatto che se uno non spende sotto tot euro ha comunque pure le spese di spedizione ma se no uno cosa deve fare non ditemi che questa storia si legge e si gode da sola senza questa perché davvero non mi potete dire questo questa volta la cosa che mi fa arrabbiare più di tutti che da fanboy ciò nonostante tutti questa miriade di difetti mi ha toccato il fattore nostalgia perché si aggancia a una storia che mi piace e quindi io promuovo anche questo mese di Landog ma ma proprio per il rotto della cuffia e perché mi hanno comprato con questo a colori bellissimo la prefazione di sclavi con quale presentazione ancora prima che uscisse di Landog sempre di di Sergio Bonelli e cazzo fantastico questo però questa è forma la sostanza è qua dentro e la sostanza mi ha fatto incazzare ai dulcis in fundo la variabile ma che cazzo vuol dire il tocco del diavolo perché la variabile qual è la variabile è Dylan Dogg la variabile nel senso che è una versione alternativa di Dylan Dogg è quella post reboot non è quella prima reboot allora scrivimi la variante o hai paura di essere citato dalla Marvel che ha usato lo stesso termine nella serie tv locchi si voleva citare quello quindi vuol dire che avete volutamente dato importanza a questa cosa del pre e post reboot se è un sequel di questo chiamamelo il tocco dell'angelo tanto non è che si temeva di fare concorrenza di là visto i contenuti non lo so anche il titolo non mi è piaciuto e poi davvero io mi aspettavo onestamente dalla copertina che come ho detto non c'entra nulla ma per carità mi aspettavo che la variabile con Dylan Dog appoggiata al teschio palesemente di graucio perché con sopracciglia e sigaro e graucio mi aspettavo che si parlasse della variabile di graucio del graucio cattivo del numero 6 o che si scoprisse qualcosa su questo graucio post reboot invece nulla di tutto questo quindi sono deluso salvo Dylan questo mese per l'effetto nostalgia per la forma ma non per la sostanza e mi dispiace davvero tanto perché le potenzialità c'erano c'erano tantissimo le potenzialità però qui non ci siamo fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa cosa fatemi sapere se anche voi avete notato queste cose o se adesso che io ve lo fate notare magari vi ho messo la pulce e mi maledite perché se no magari ve lo godevate adesso ho smesso fatto in modo che non ve lo godete dicendovi tutte queste cose spero di no però fatemelo sapere scrivetemi qua sotto nei commenti io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video vi informo anche che i miei video di 5 minuti sulla Instagram tv in cui parlo dei disegni non ci saranno più passerò cercherò di passare direttamente ai reel che però sono di 30 secondi quindi davvero non vi farò vedere un cazzo probabilmente per differenziarmi un po' da chi già li fa sfoglierò velocemente le tavole vi farò vedere magari una tavola che mi ha colpito in particolare con un dettaglio comincerò oggi mostrandovi quello di Jenny in cui vi mostro come sono state disegnate molto bene le mani grazie ancora e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.